Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, benvenute in un nuovo video, un video haul da DM, sono stata da DM, ho acquistato tantissime cose, anche perché non è che ci vada spesso, non avendo un DM vicino, per fortuna del mio portafogli direi, quindi ho acquistato giusto due cosine, però comunque ragazze, ho acquistato un sacco di cose e ho speso in totale 47,45€, quindi veramente prezzi, wow! Ho acquistato praticamente solo Balea, qualcosa di Alverde, altri brand che trovo normalmente da Tigota, per esempio, non mi sono neanche soffermata a guardarli, mi sono orientata su quei brand che non si trovano in altri posti. Sì, e direi che vado in ordine di quello che pesco, che dite? Sì, prima cosa che pesco è una bomba da bagno al cocco, sfera da bagno frizzante al profumo di cocco, di Balea, pagata 2,99€, è una bomba da bagno enorme, poi sempre per il bagno ho acquistato dei sali, che sono warm and cozy, prugna e fiori di maniglia, pagati 0,79 centesimi, non è la prima volta che acquisto i sali da bagno e le bombe di Balea e mi sono piaciuti tantissimo. Poi, deodorante, ne avevo due, quindi mettiamolo per dopo il deodorante, passiamo ad altro. Ecco, ho acquistato uno shampoo di Alverde, qui dice nuovo, è lo shampoo volume al kiwi e menta, l'ho pagato 2,39€ per capelli fini e deboli. Devo dire che io ho provato altri shampoo di Alverde, con quello alla caffeina mi sono trovata malissimo, poi ho provato quello all'albicocca e limone e devo dire che non è lo shampoo migliore del mondo, ma non mi è dispiaciuto. Proverò questo e vi farò sapere, è un prodotto biologico, è certificato natru e vegan, ok? Quindi, ottimo come inci. Poi ho acquistato queste salviettine bambino della marca Baby Love, che è appunto la marca di DM, pagate 0,99€ mi sembra, aspettate che... Baby Love salviettine 0,99€, sono 30 salviettine, appunto della linea bambino, nuova ricetta, qui dice, è scritto ovviamente tutto in tedesco, senza silicone, senza alcol, senza altre cose che non riesco a capire che cosa siano, comunque salviettine che userò sulla postazione make-up. Altre salviettine mastruccanti sono queste salviettine di Balea al Pompelmo, queste pagate, pagate 1,49€ per 25 salviette. Poi, altri sali da bagno, ma questi sono di Alverde e sono per il Pediluvio a Rabarparo e questi li ho pagati 0,99 centesimi. Sempre sali per il Pediluvio sono di Balea e sono i Vital, questi, pagati 1,99€, 450 grammi, un ottimo prezzo. Poi, 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 qualche maschera, vediamo di farvi vedere tutte insieme le maschere, dovrebbero essere queste e basta. Allora, di Balea, la maschera in tessuto all'avocado e miele, rigenerante, questa confezione è carinissima, fatta a forma di vasetto di miele, questa l'ho pagata 1,49€. Sempre Balea, però, in crema, questa limited edition Berry Smoothie, è la maschera antiossidante ai frutti rossi e questa qui l'ho pagata 0,99€ per due confezioni, per due maschere. Poi, di questa linea, che non so come si legga, Luli, non lo so, ma è carinissima, vedete, è fatta a forma, sono due cuori, è la face mask con olio di manuca, maschera viso, scusate, olio, con miele di manuca, maschera viso con estratto di miele di manuca, qui dice Paola Maria by the M, non lo so, sinceramente, 0,79 centesimi per due maschere, sono super curiosa. E poi, di questa linea, Mon Stefani Giesinger, sono i pads per il contorno occhi in hidrogel. E questi li ho pagati 2,99€, curiosissima di queste due, soprattutto, perché le maschere di Balea le ho già provate, quelle non le ho mai provate. Poi, per il viso, ho acquistato, allora, vediamo, per il viso ho acquistato un roll-on contorno occhi di questa linea acqua, dovrebbe essere un contorno occhi idratante, con estratto di alghe, senza profumi, pagato 2,49€. Poi, il tonico di Balea, tonico viso con acido salicidico e zinco, per pelli impure. Questo l'ho pagato, 1,99€, per 200ml. Poi, lo struccante occhi bifasico, contenente olio bifasico, senza alcol, a trucco a waterproof, questo l'ho pagato 1,49€, per 100ml. E poi, ho acquistato due mousse, una di Alverde, pagata 2,99€, è la mousse Beauty & Fruity, per pelli normali e miste, a lime e menta. Confezione carinissima, e di Balea, la schiuma detergente per il viso con estratti di fiori di mandorle, di mandorle, per pelli secche e sensibili. E questa l'ho pagata, invece, 1,99€. Ok, poi, 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 ho acquistato due, due deodoranti pagati entrambi 1,19€, e sono il deodorante spray senza alluminio con fragranza fruttata, Caribbean Love, e il deodorante spray al profumo di pesca e maracuja, pesca e maracuja e Caribbean Love, questi due. Non c'erano tantissime profumazioni di deodoranti, quando ero andata al DM a City Life a Milano, ce n'erano molte di più. Poi, due prodotti molto poco interessanti, la crema depilatoria, io sono fedelissima alla Vette, ma questa costava pochissimo, costava 1,49€ per 125ml, quindi, insomma, un prezzo bassissimo per le creme depilatorie, adatta per pelli sensibili. La proverò, vedremo se è buona quanto la Vette, che io, è l'unica crema depilatoria che utilizzo, oppure no. E poi ho preso il gel, appunto, per la rasatura, Exotic Cocco, con cocco e frangipani, e questo qui l'ho pagato 1,99€, quindi, anche qui, un prezzo, veramente. Se voi non la vedete, ma, ecco, era qui vicino a me la gatta, stavo dicendo, un prezzo veramente molto basso. Ok, altre cose interessanti sono, questo di Balea è una limited edition, feel well, è uno spray rinfrescante per gambe e piedi. Revitalizzare in fresca, piedi, gambe, stanche. Questo l'ho pagato 2,99€, e anzi, adesso lo provo. Subito, l'ho spruzzato. Sì. Non lo so, contiene te, maccia, vitamina B. Nello spruzzo, sì, vi rinfresca, ma per forza vi state spruzzando qualcosa di fresco. Vedremo, comunque, prima di trarre conclusioni affrettate, lo proverò per bene. Poi ho acquistato una mousse da doccia, che è la Pure Energy, con estratto di lime e menta, cioè adattissima a questo periodo, pagata 1,09€, credo. No, 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 non è vero. Mousse, 1,99€. Poi questa acqua, acqua spray rinfrescante per viso e corpo, ideale anche per fissare make-up, per maggiore freschezza conservare in frigorifero. Questa l'ho pagata, 1,49€ è un'acqua, un'acqua rinfrescante. Senza profumazioni, è proprio solamente acqua. Non è acqua termale, è un'acqua rinfrescante, che metterò sicuramente in frigorifero. E poi ho acquistato una crema corpo, ed è la Body Lotion Lucky Moments, con qualcosa exotice vaniglia. Vaniglia esotica, credo che profumi di vaniglia, ma la confezione è stata la cosa che mi ha convinto, cioè è bellissima. E questa l'ho pagata, pensate, l'ho pagata solo 0,99 centesimi, quindi sono curiosissima di provarla. Poi ho acquistato un peeling per la doccia, un peeling doccia, pagato 1,29€, si chiama Calm Down, è una limited edition al profumo di vaniglia e fiori d'arancio. Poi sapone, ho acquistato questa ricarica di sapone, latte e miele, da 500 ml, pagata 0,85 centesimi. Invece, un sapone proprio con il dispenser, l'ho pagato 0,99, si chiama Relaxing Bali, con profumo di mela rosa e guava. Curiosissima di sentire la profumazione. E poi ho acquistato due bagno doccia, di due linee diverse. Questo è il family doccia gel family energizzante, fresca energia, pagato 1,09€, per questo sono 500 ml. E questo, invece di questa linea più piccolina, l'ho pagato 0,99€, è un doccia crema con estratto di latte di riso. Ha una colorazione molto particolare, vedete, è quasi come se fosse un po' venata. Anche qui la confezione ha fatto il tutto, sono stata molto molto attratta dalla profumazione, scusate, dalla confezione. Questi sono stati tutti i miei acquisti da DM, era la seconda volta che andavo, sono andata in un DM diverso, sono andata nel DM di Bergamo, Stezzano mi sembra. Quindi ho approfittato per comprare parecchie cose, dato che non ci vado molto spesso. E comunque, ragazze, per tutto quello che ho acquistato, che ho tutto qui intorno a me, ho speso veramente poco, perché ho speso 47€. Quindi super economico, come sempre, DM, vedremo come mi trovo con tutti questi prodotti. Quindi vi farò senz'altro sapere, fatemi sapere voi se avete provato alcune di queste cose, come vi siete trovate. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!